Oggi, come sempre, io dico da 18 anni due cose servono per imparare, è una forma diversa, ma sono tecnica e allenamento. Lei ci ha dato la tecnica, adesso chiaramente dipende da noi quello che facciamo da dopo, quando andiamo a casa, dalla prima targa che vediamo, 8, 4, 7 e ti crei la parola. Due bellissime giornate, per ricollegarmi dal giro prima, non è importante quello che dici, ma come lo dici. Io penso che, spiegato in una maniera meglio di questa, è stato un mix di tante belle cose, oltre che c'è un bel corso in memoria, sono veramente, mi sembra duveroso che facciamo un bel applauso a Nicoletta. Grazie.